Questa sera siamo qua per parlare del turismo gardesano, un turismo che è al top a livello trentino, però credo che ci siano ancora grandi margini di miglioramento. Oggi abbiamo dei numeri molto importanti, probabilmente la prossima sfida oltre ad essere quella di ultimare le ciclabili, ultimare tutta una serie di servizi, possa essere quella di alzare ulteriormente la qualità per poter rendere in maniera molto più reddittiva l'attività delle aziende turistiche, sia del recettivo ma soprattutto anche delle altre situazioni riguardanti anche soprattutto il commercio o altre attività che magari sono un pochino più in difficoltà. Prendo atto della situazione che c'è per quanto riguarda le seconde case legate al settore turistico, non è un problema di oggi che magari poteva essere preso in considerazione anche molto prima, però noi l'abbiamo subito affrontato, proprio in questi giorni stiamo approntando una visione definitiva poi da proporre alle varie categorie per poi andare velocemente se possibile anche a legiferare.